Si è svolta presso la Cittadella della Regione Calabria la premiazione del concorso nazionale e regionale Epilibriamoci. L'evento, nato in inseno all'ente proloco italiane, è collegato alla Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, che ricorre ogni 23 aprile ed è giunto alla sua seconda edizione. Il concorso, destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, ha l'obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura, promuovendo la lettura e la scrittura. Attualissima e carica di significato la traccia su cui i ragazzi sono stati chiamati a riflettere, le urla che arrivano dal mare. Come integrare culture diverse? Le tematiche dell'integrazione, di culture differenti e dell'accoglienza sono state accolte con serietà e molta sensibilità dalle varie istituzioni scolastiche e dagli allievi. Sono stati bene 543 gli elaborati e esaminati a livello nazionale e 110 quelli pervenuti dalle scuole della Regione Calabria. Vincitrice nazionale del concorso è stata Giovanna Maria Tancredi dell'Istituto Comprensivo di Rendecentro in provincia di Cosenza. Il vincitore regionale è stato Giovanni Montoro dell'Istituto Comprensivo di Sanfili in provincia di Cosenza. Il secondo classificato è stata Rossella Varone dell'Istituto Comprensivo di Vallelonga plesso di Pizzoni in provincia di Vibo Valencia. La menzione speciale è stata assegnata a Viola Bonasso dell'Istituto Comprensivo Fratelli Bandiera di San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Tutti i premiati hanno ricevuto una bellissima opera realizzata dal maestro orofo Michele Affidato.